Giuse, hanno fatto uscire letteralmente un'ora fa il video sulla Nutella gigante Guarda l'ha fatto pure Jumpy Tech 20 minuti fa Qua è molto tattica la cosa Sì, entra nel buco, entra Sì, 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 sì Proprio comodo stare qui ragazzi, sapete? Ho fatto una grandissima cavolata adesso Oh no, oh no Sì È davvero perfetta la grandezza Sì, dicono tutti così Si è davvero rimpicciolito Vai di violenza o t'attacchi? Mi devo comprare una prolunga, che palle Questo qui dovrebbe bastare, che manizzozze che c'ho Però ha un bell'aspetto nonostante tutto È molto nutelloso, è davvero stranutelloso Troppa Nutella in tutto questo robo Perché faccio una cosa epica Sì Sì Intra nel buco Intra Sì, 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 sì Oh Ah Sì 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 Sì